Promuovere e valorizzare arti e mestieri della tradizione napoletana, attraverso il recupero delle tradizioni manifatture partenopee e la formazione e l'avviamento al lavoro di giovani provenienti da famiglie in difficoltà e in condizioni di disagio socio-economico. E' questa la missione dell'Associazione Arti e Mestieri, nata dall'amicizia e dallo spirito di collaborazione dell'imprenditore Rosario Bianco e del sostituto procuratore della Repubblica e il magistrato Catello Maresca. Un anno fa nemmeno siamo partiti con la nostra associazione e insieme a Catello ci siamo subito chiesti di verificare quali potessero essere gli ambiti applicativi, diciamo le esigenze, in maniera straordinariamente bella, ci è venuta questa richiesta nella fase di selezione di due cose fondamentali. Un corso per pizzaioli e il corso per musical, per ballare, per tantissime richieste di cantanti, di musicisti. Dopo aver ultimato il percorso per pizzaioli e giornalisti, l'associazione ha annunciato nella chiesa di Santa Marta a Napoli l'avvio di nuove esperienze formative. In occasione dell'incontro di presentazione delle attività per il nuovo anno, i ragazzi che hanno partecipato ai corsi già avviati hanno ricevuto un attestato di partecipazione. Tra questi c'è anche Raffaele Criscuolo, 23 anni, un passato in una baby gang del quartiere Montesanto di Napoli, che grazie all'incontro con Catello Maresca è riuscito a cambiare vita. Mi contattò il dottor Maresca, che oggi per me è una persona come un padre, visto che sono cresciuto senza, lui mi ha fatto sentire il calore di un vero padre. Mi contattò lui dicendomi del corso di pizzaiolo. Io accetto subito la prima cosa che feci, anche perché vengo da una famiglia di pasticcieri, i miei nonni fanno questo da 50 anni, quindi diciamo che avendo già competenza con la pasta è stata poi una cosa che mi è riuscita un po' più semplice, magari degli altri ragazzi del corso. Poi, diciamo, dopo il corso di pizzaiolo, sempre grazie all'Associazione Arte e Mestieri di Napoli, tra virgolette, tengo a dirti, dottor Maresca, mi ha messo a lavorare in un'azienda SPA, che si chiama EPSPA. Forniamo il mangiare su tutti gli ospedali di Napoli. Se si vuole, si può cambiare, ci sono altre scelte, ci sono alternative. Ascoltiamo Giuseppe Furforo, titolare della pizzeria Trianon, che ha organizzato il corso per pizzaioli. Vogliono imparare un mestiere per eliminare alcuni problemi della loro vita. Sono stati quasi tutti che si sono molto affezionati, qualcuno è venuto a lavorare con noi per alcune settimane e per me è stata un'esperienza molto soddisfacente.